Ciao a tutti, sono Franco, socio trentino del 2016. Questa è la casa che metto a disposizione per gli scambi con Omex Change. Si trova nel Trentino occidentale, nel paese di Roncone. Finora abbiamo fatto parecchi scambi, più di 30, vedendo posti meravigliosi e conoscendo persone fantastiche. Il prossimo scambio già concordato sarà a Follonica in settembre. Grazie a Omex Change che ci permette tutto questo. Buona giornata, Franco.